Il campo è molto stretto, intanto c'è questo lancio perfetto per il numero 7 Paratona veramente da parte di Nunziatini al nono minuto sul numero 7 Maiorana, indietro per Gorelli, Gorelli in avanti per Andreotti Andreotti sul filo del forgioco, Andreotti entra in area, Andreotti tiro Parata importantissima di Serafini all'undicesimo minuto, il Grosseto risponde al precedente tentativo 11 minuti, batte questo calcio d'angolo, il primo per il Grosseto, proprio Pierangeli Testa di Cretella, palla che esce di un soffio, che lotta su ogni pallone Pierangeli, Pierangeli tiro, respinge male, gol, Grosseto in vantaggio, Andreotti 26esimo minuto, appena scoccato, Andreotti Velocità Camilli, corpo a corpo, rovesciata in mezzo all'aria Pierangeli, numero di Pierangeli, bellissimo questa giocata di Pierangeli Un sombrero in attacco e poi conclusione di prima intenzione Fischia Jacopetti, punizione, palla direttamente sul fondo Questo è il tentativo di Baglini Ecco Molinari in velocità, si beve tutti, Molinari, Molinari, Molinari Mette in mezzo all'aria, respinta del numero 6 Gemignani, Zagaglioni Lunghissimo Palo del Grosseto Batti e ribatti, l'abito ferma tutto Tutto regolare per l'abito Numero di Molinari, tiro Bellissima azione personale di Molinari Al secondo minuto di gioco Fra con Lepri, Gorelli Velo di Camilli per Molinari Molinari sale, palla al piede, tiro di Molinari Pallone sul fondo, bravo Molinari Andreotti di petto per Pierangeli Il pallo, l'abito lascia correre, vantaggio per il Grosseto Sale Lepri con personalità, Lepri tiro Bravo Lepri, bravo, bravo, veramente Ecco la respinta di Fugno di Seracchi Per poco non segnava Zagaglioni Ancora Lepri, respinta la palla Bianco rossa, sempre Cicenaia in avanti Cecchetti, Cecchetti, traversone In scivolata, allontana Ciogli Recupera la palla qua per Imitino Il poco sopra la traversa Vincendo a Castelnuovo Ecco tiro a Molinari Provesciata Ad allontanare il Chiricolo Magliorana, Magliorana, Magliorana Rientra, Magliorana Parata in un siatini sul primo palo Zagaglioni Conclusione dalla distanza Non si abbattere Sarbi Un pallone molto pericoloso Tiro di Fabrini Vicino al pari Vicino al pari Il Cenaia Missing per Andreotti Andreotti Camilli 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 Miracolo Miracolo vero e proprio di Serafini Miracolo di Serafini Che ha negato il 2 a 0 al Grosseto Al quarantesimo della ripresa Ottantacinquesimo Cecchetti Camilli lo salta Camilli Camilli Esterno Bellissimo Liftato per Boccardi Tutto regolare No 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 Questa volta La chiamata Molto dubbiosa Crediamo che sia partito In maniera regolare Bravissimo Lepri Sbroglia tutto Rimane in attacco Però l'Atletico Cenaia Fabrini Parata Miracolosa Di Nunziatini Sul colpo di testa Del numero 5 Signorini Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!